Un saluto, ben ritrovati, come state? Mi invito come sempre a iscrivervi sul nostro canale, sul nostro logo del canale, qualsiasi squadra voi ti fiate, lasciare un bel like, commentare. Allora, oggi di fatto è arrivata l'ufficialità che riguarda Mignan, dalle parole di Pioli, sul fatto che sia un problema comunque serio, rispetto a tante indiscrezioni, Pioli ufficializza anche con la Salernitana, Mignan non ci sarà e quindi probabilmente neanche qualche giorno dopo contro la Roma. Situazione molto molto delicata, quella del Polpaccio, che insomma rende l'infortunio fastidioso, fastidiosissimo. Pioli ho già detto che non credo proprio che ci sarà contro la Salernitana e quindi bisogna capire gli esami che farà. Rispetto a indiscrezioni, a qualcosa, ha avuto ancora qualcosa, oggi Pioli ufficializza che c'è niente da fare per quanto riguarda la Salernitana e che quindi è il problema, va considerato quasi come un nuovo infortunio. Gli esami ci diranno, di fatto per il Milano è un danno serio, perché un portiere titolare che sta fuori così tanto in due stagioni, siamo più di 20 partite e questo numero è destinato ad aumentare qualcosa che credo non si sia mai visto. Quindi non una dichiarazione rassicurante, quella di Mr. Pioli, che dice poi sul rientro di Ibra dobbiamo aspettare, ricordando che il Milano ha anche Orighi che ha dei problemi. Su Mignan ci vuole ancora un po', pronto per Salerno non credo, quindi ci vuole ancora un po', vediamo se sarà pronto magari per la partita che il Milan farà dopo metà gennaio contro l'Inter nella Supercoppa. Sicuramente una doccia gelata, un problema incredibile perché riguarda appunto un portiere che tendenzialmente dovrebbe essere meno infortunato. Che ne pensate? Iscrivetevi qui mi raccomando, lasciate un bel like e commentate numerosi. Buone feste a tutti e se vi va ad iscrivervi oggi arriviamo a 10.000 iscritti ed è un bel traguardo. Ciao ragazzi!